oh eccoci qua fai una faccia da eccoci qua e com'è la faccia di qua così a parte gli scherzi che volevi di ci tenevo tantissimo a ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri dove su instagram avete reso questo giorno molto molto speciale tipo come tipo tipo come tipo come 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 coglione volevamo anche ringraziare tutti i presenti al compleanno domenica è stata una festa memorabile vero no si quanta gente c'era erano tantissimi tantissimi sei divertito e fatto le foto ho fatto le foto mi sono divertito mi sono anche un po commosso ho visto anche qualche bella ragazza e beh quella ce l'ha da entrare insomma vi ringrazio tanto questo è il weekend mi avete fatto sentire il nonno d'italia grazie a tutti ancora manda un bacio da me vabbè anche da me perché ho organizzato tutto mandala anche a loro vai meglio 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 ma vabbacculo qua è meglio